Il panno del Casentino diventa un marchio registrato, la stoffa, diventata famosa per il suo ricciolo inconfondibile di suoi colori, scelta recentemente anche da Re Carlo III d'Inghilterra, verrà dunque tutelata. L'iniziativa è della provincia di Arezzo, sposata dalla Camera di Commercio, dai sindacati e dalle aziende, una su tutte. La Manifattura del Casentino, che recentemente è riuscita a salvare 18 posti di lavoro. Le limitazioni ci sono state, ci sono e ci saranno sempre, quindi le tutele bisogna per forza che vengano messe in atto e quantomeno dire che questo è un prodotto simile al nostro, ma non è il nostro, perché non viene fatto nell'azienda che è localizzata in Casentino, con l'acqua del Casentino, con le maestranze del Casentino. Comunque non è facile farlo anche a parità di condizioni, ci vuole, conta tanto, diciamo, benamente chi lavora nell'azienda. La provincia di Arezzo, oltre alla registrazione del marchio, mira anche al riconoscimento UE come marchio collettivo geografico IG. Come istituzione, per quanto non abbiamo più la delega della promozione del territorio, fosse importante, dopo la vicenda successa, dove si è rischiato di perdere una produzione storia per il nostro territorio, fare in modo di garantire un futuro certo per il panno del Casentino. E quindi la provincia si prenderà la responsabilità di registrare un marchio, un nuovo marchio, perché abbiamo chiesto la collaborazione degli studenti del Margaritone, quindi gli studenti della grafica faranno dei nuovi simboli, dei nuovi marchi che le aziende sceglieranno, andremo alla registrazione, a tutela appunto di un prodotto che è un'eccellenza del nostro territorio. Ma vorremmo fare di più, perché c'è un regolamento in corso di approvazione dall'Unione Europea, ci auguriamo già infatti che nel 2023 si possa registrare un marchio collettivo geografico e questo tutelerebbe ancora di più questo prodotto artigianale, riconosciuto IG, come veramente un prodotto tipico di produzione del Casentino e quindi della nostra provincia. Quale sarà l'apporto dei vostri studenti? I nostri studenti si sono messi a gara l'uno con l'altro per preparare delle proposte di bozzetto che serviranno per il logo del panno del Casentino, questa bellissima iniziativa che vede promotrice la provincia, la Camera di Commercio e tutte le imprese che sono interessate a mantenere una tradizione veramente interessante della vallata del Casentino. Beh, cerchiamo di cominciare appunto un percorso che parta innanzitutto dal identificare questa produzione unica, tipica e assolutamente connotata al nostro territorio di provenienza, quindi al Casentino che è quella del panno. Quindi attraverso il marchio, ovviamente qui sono state anche coinvolte la scuola proprio per trovare anche una forma di comunicazione e di identificazione del prodotto e iniziamo un percorso che cercherà di far riconoscere questa tipicità, questa unicità di questo grandissimo prodotto anche a livello europeo. Quindi ci sarà un percorso rispetto alla identificazione territoriale di questo prodotto e ovviamente le procedure di realizzazione e di produzione che dovranno essere anche una garanzia per il consumatore ma soprattutto speriamo un valore aggiunto sul mercato. Sì, l'abbiamo seguita sin d'agosto quando ormai eravamo arrivati ai tempi stretti sulla questione del capannone. Non l'abbiamo fatto per campagna elettorale ma perché la problematica è caduta proprio, è diventata urgente proprio in quel periodo. ma nella sede abbiamo detto che avremmo accompagnato e avremmo valorizzato tutto l'indotto e le aziende del Panno del Casentino e che il nostro impegno non si sarebbe fermato. E oggi siamo qui, abbiamo mantenuto quella promessa, non era l'acquisto del capannone, non è stato un punto d'arrivo ma un inizio.